Allora, una prima cosa che volevo fare era discutere un attimino il draft con voi che io non l'ho potuto vedere quindi vedo solamente le team comp e volevo sapere proprio dal vostro punto di vista di team perché avete draftato questa comp e quali sono secondo voi le vostre win condition quindi quali sono i punti importanti su cui vi dovete concentrare per riuscire a vincere la partita contro la loro comp Parlo io che so quello che fa le comp Allora, per quello che riguarda questa comp noi abbiamo provato, siccome mi occupo delle comp perché anche io ho fatto il coach per i team recentemente Ok, scusa se ti interrompo, tu chi sei come giocatore? Il Vieto Planner Ok, va bene Allora, praticamente l'idea che ho avuto per il team siccome noi vogliamo provare qualche comp abbiamo scelto due comp precise che dobbiamo giocare per il resto del mese pensando alla patch precedente Una era la Puppi, se non mi ricordo male si chiama così ossia con Galiotop, Jarvan in giungla Orianna mid e poi Outwitch, Oxaya con Maddy Carry e poi perfine con Rakan support Ok, va bene Capisci che ha tantissimo potenziale di engage e quindi questa era una comp e poi un'altra comp che avevo scelto era una comp con Split Pushing che include quindi un personaggio di Split Pushing, Toplane, eccetera eccetera poi va bene, possiamo parlare un'altra volta di quella Ok, va bene Quindi questa comp l'avevamo fatta per fare un forte engage però col fatto che ci hanno bannato Galio abbiamo deciso di andare con Monkai che comunque ci permette grazie al vabbè al, come si chiama al Rage of Glory e all'Ultimate di poter fare un potenziale engage nel momento in cui poi il jungle può jumpare su qualcuno che è mobilizzato L'unico modo che noi abbiamo di vincere questa partita comunque è che avendo tanti cc teoricamente avremmo avuto bisogno di ingaggiare quando troviamo qualcuno magari fuori posizione 1 o 2 Ok e sfruttare praticamente il concatenamento dei cc con i danni di Twitch e Orianna per terminare chiunque l'ultimo avversario Ok, perfetto e ok piccola analisi sulle laning phase cosa vi aspettate dalla laning phase in ciascuna delle lane? Teoricamente top dovrebbe andare praticamente even perché comunque stiamo parlando di due tank alla fine in quanto riguarda la jungla il potenziale degli game di Jarvan è un po' più avanzato in quanto Maokai diventa molto più pericoloso dopo il livello 6 mentre Jarvan comunque attraverso lo slow e il knock up può preparare dei bei gank per quanto riguarda mid il pick di Yorick mid non l'avevo mai visto quindi non sapevamo cosa aspettarci però io giocando top so che comunque fa discreti danni quindi infatti ricordo l'edetta fedo evita di rimanere nella sua W perché sennò sei morto e bot lane è la laning che sarebbe stata un po' più quella di più difficoltosa in quanto che in a più range di twitch ci hanno molto più sustain grazie a zona ok perfetto perfetto allora ok perfetto allora bene o male avete individuato sia i punti di forza della vostra team comp una cosa che mancava è che il vostro scaling è davvero eccellente vuol dire che più la partita va avanti più quasi in automatico voi dovreste vincere i fight a meno di fare errori gravi e l'altra cosa su cui magari c'è stata un po' di sottovalutazione è come si sviluppa il match up in bot lane ok perché Caitlyn e Sona sono una delle lane più fastidiose ed oppressive che ci siano contro un povero twitch che non ha alcun modo di difendersi e un Rakan che per quanto sia un support abbastanza completo soffre molto se viene messo in questa situazione dove viene poccato tutto il tempo dato che il suo sustain non è dei migliori e una volta che è troppo basso di vita fa molta difficoltà di ingaggiare allora se noi dovessimo rigiocare questa partita prendo un attimo la mia mappa eccola qua allora se noi dovessimo rigiocare questa partita analizzando bene come vanno le lane abbiamo detto che top bene o male è uguale ok in realtà non importa moltissimo cosa succede in top dato che sarà un match up molto divertente molto entusiasmante con due tank che si picchiano per mezz'ora in mid lane abbiamo Orianna contro Yorick Yorick non è da sottovalutare ma una cosa molto importante è il quale team ha mid priority ok questa è una cosa che dovreste diciamo a cui dovreste pensare sia durante il draft che durante la partita ovvero quale dei due mid lane riesce a pushare l'altro per poter avere accesso al fiume e romare per primo mentre l'altro è sottotore e deve difendere ok Orianna si ha buona visione riesce a tenere Yorick abbastanza pushato soprattutto dopo il primo back e soprattutto quando ha accesso al blue buff perché ai primi livelli ha qualche problema di mana quindi rischia di non riuscire a tenerlo pushato invece quando inizia a comprare Lost Chapter ad avere il blue eccetera è lei che ha priorità in mid ok invece in bot è la situazione più disastrosa possibile ovvero una lane molto molto difficile che pusherà tutto il tempo la torre e cercherà di mettere un sacco di pressure sia sui campioni della vostra bot lane che sulla torre stessa questo fa sì che dobbiamo trovare una soluzione perché top lane ok come abbiamo detto non succederà anche mid lane Orianna mid priority bot lane invece stiamo soffrendo molto quello che dobbiamo fare noi è riuscire a coordinare il jungler con il mid eventualmente il tipi del top per arrivare tutti assieme in bot lane in un determinato momento e fare uno di quei famosi festini in bot lane tutti quanti invitati ok questa cosa la potete fare molto bene se torniamo a vedere le vostre le vostre team comp perché avete anche Rakan che è perfetto per preparare il gank ok è uno dei support più forti nel preparare il gank che permette a tutti quanti gli altri membri del team di arrivare in posizione inoltre avete Twitch che grazie alla sua ulti guadagna un sacco di range e di danno nel momento in cui fate il gank ok quindi quello che vorreste fare voi nei primi minuti di gioco è iniziare a costruire questo gank già dall'inizio anche se non è una cosa che volete fare ai primi minuti è una cosa che vorrete fare più avanti quindi molto molto importante riuscire a prendere le summoner della bot lane in modo che abbiano meno risposte per questo tipo di situazione inoltre potenzialmente vorreste prendere i teleport dei solo laner in modo che non possano unirsi e avere una buona visione della loro giungla inferiore circa il minuto minuto e mezzo prima del momento in cui voi decidete di fare questa giocata ok questo è il modo migliore in assoluto che avete per riuscire a punire la loro bot lane che è molto aggressiva e riuscire a recuperare la situazione in bot lane perché se noi lasciamo la bot lane così per tutta la partita sarà davvero un disastro non c'è modo che diciamo non c'è un modo facile per Twitch e Rakan di sopravvivere a quella lane l'altra cosa importante è come abbiamo detto la mid lane priority ovvero Orianna deve essere in grado di pushare l'altro mid per poter iniziare il rom con il suo jungler e arrivare a bot assieme al suo jungler ok quindi questo è il primo grande passo che dobbiamo fare come team per riuscire a diciamo avere una risposta al vantaggio che ha il loro team come team comp ok e per quanto riguarda la visione ne parlerò un pochino meglio dopo ho visto che voi tutti quanti avete comprato delle pink ward durante la laning phase ok questo è ancora meglio del vostro primo team in APH premo un sacco sulle pink ward in un game ne abbiamo comprate tipo 48 in un game che abbiamo giocato di cui il support ne ha messo tipo 26 e il resto noi ok allora se addirittura sono morte 26 pink ward nel support forse dobbiamo vedere anche come difenderle però l'idea di base mi piace molto quello che dovreste fare durante la laning phase è capire dove avete bisogno di visione allora Malfite non è un jungler molto aggressivo e anche se si impegna molto prima del 6 è davvero difficile che riesca a fare un buon gunk quindi quello che potete fare con le pink ward è ottenere il controllo del fiume in modo da permettere ai vostri membri di attraversare il fiume senza essere visti e di impedire a loro di prendere controllo del fiume quindi i georgi saranno tutti vostri e ogni volta che voi entrate nel fiume loro non sanno dove siete ok questo lo vediamo un pochino meglio nel momento in cui prepariamo la festa bot e ok iniziamo a vedere un pochino un pochino la partita io seguirò il jungler per le fasi iniziali del del game dato che è quello che diciamo è l'unico che fa qualcosa senza offesa per tutti gli altri e dai trombi tanto l'offesa arriverà a me in realtà più avanti quando diciamo se volete continuare il percorso di coaching vedremo anche le laning phase in maniera individuale quindi vedere cosa potete fare meglio però dato che abbiamo solo un'ora corro un pochino e vi dico le cose le cose più importanti secondo me anche perché poi laning phase dobbiamo sistemare più noi anche in singolo cioè a prescindere quindi meglio vedere cose di macro game che sono quelle che poi servono di più ok ok perfetto ok allora qua Jarvan punta un full clear e dato che siete contro Malfite ci può anche stare ok ok come vediamo anche solamente dalla minimap vediamo che già la bot lane inizia ad essere sotto un pochino di pressure quindi hanno ovviamente perso il livello 2 dato che per Caitlyn è molto facile farlo e lentamente vengono pushati verso la loro torre e la torre inizia a prendere danni quindi questo è un pochino nella testa degli altri 3 membri dovrebbe essere una specie di timer che c'è in alto o a destra può essere anche a sinistra se volete e è il timer di quando la torre cadrà quello è il tempo che avete a disposizione per riuscire a trovare una risposta alla bot lane ok ok allora qua primo gank top questo va bene è eseguito molto bene e addirittura qua se volete potete entrambi flashare dietro di lui con un autoattacco e prendere la kill e questa cosa ve la potete chiamare già da quando inizia il gank e dato che è iniziato bene potete decidere di investire entrambi i flash perché anche se arriva un malfite da dietro il muro non vi fa molta paura ok non è una nida lì un elise eccetera quindi potete tranquillamente puntare alla kill se comunicate e la cosa importante è che in questo caso avete sì preso il flash quindi un eventuale repeat gank può essere molto facile da setupare con un flash twisted advance di maokai ma la cosa importante allora sì e no perché ha il tp e in ogni caso teleporterà ok che sia su un minion o che sia sulla torre lui teleporterà ovviamente dato che maokai ha poco mana un aiutino da parte del jungler è sempre il benvenuto ok e questo può può chiamarlo sia il jungler che il top laner tipo torna qua dove vai aiutami a pushare ok però la cosa importante davvero importante è il teleport di Sion che adesso utilizzerà ok qua c'è un gankminton e ok qua vediamo il teleport top una cosa che è molto importante è riuscire a timerare dei summoner spell degli avversari io non so se questa è una cosa che fate come team o se ancora non la fate diciamo che a volte si a volte no a volte ci dimentichiamo le pinghiamo le pinghiamo io mi sono accorto che le pinghiamo 9 su 10 le pinghiamo e 3 su 10 ci ricordiamo di averle pingate e non contiamo poi effettivamente quando tornano up o cose ok allora questo di solito è un lavoro che fanno i supporti i jungler in base alla situazione e in pratica quando viene utilizzato il tp si guarda il timer o se non si ha tempo in quel momento lo si pinga così si ha il timer in chat e si calcola quando tornerà il tp ok perché questa è la finestra in cui maokai può andare bot perché lui si terrà il tp in questa situazione non ha bisogno di usarlo per tornare top e sion non potrà rispondere quindi già abbiamo un vantaggio numerico in bot lane quando cercheremo di fare qualcosa e una cosa che mi è sfuggita prima mentre parlavo di tutto è che il primo drago è un infernale ok questo vuol dire che il party bot non solo vi dà la prima torre ma vi permette anche di prendere un drago che è fantastico per questa team comp ok e dal momento che il primo drago è infernale la possibilità che i prossimi draghi siano infernali è più alta vuol dire che se voi avete preso questa torre qui dal punto di vista strategico per loro l'accesso al fiume è più difficile quindi un eventuale drago anche tra non lo so 15-20 minuti è in favore del vostro team solamente per il fatto che avete preso voi la torre bot ok questo ovviamente senza contare che loro prendano altre torri o voi prendiate altre torri è solamente un piccolo vantaggio in più per i prossimi draghi e se c'è il primo infernal dopo c'è più probabilità che escono altri infernal esatto i draghi spawnano diciamo hanno una probabilità più alta di spawnare dello stesso tipo di un drago che è morto prima di loro ah no questo non lo so quindi e no è una è una cosa diciamo di è una probabilità che è stata data ai draghi per rendere la partita più equa o snobollata totalmente per un team ok in questo caso in realtà qua vediamo già tutti i draghi non è successo però se ci fate caso vedrete che spesso quando spawna un drago di un tipo più avanti nella partita spawnerà di nuovo lo stesso tipo quindi ci troviamo ad avere tre infernali o tre draghi di montagna eccetera ok perfetto allora torniamo a dove eravamo e qua gank mid scusate torno un pelo indietro così rivediamo le summonerà le summonerà appena utilizzate ok perfetto flash del mid e il flash top e il flash mid non sono stati non sono stati utilizzati diciamo non avete sfruttato la finestra in cui non c'era flash per riuscire a fare un nuovo gank o un'azione diciamo più aggressiva ok questa è una cosa su cui potete migliorare soprattutto se riuscite a timerare bene bene i flash ok qua il jungler va anche bot e in questo momento purtroppo c'è un piccolo problema di esecuzione quindi summoner che non vengono utilizzate e quindi il gank difficilmente funziona anche qua hittando la combo comunque hanno ancora gli aldi di Sona è abbastanza difficile riuscire ad ucciderla prima che Caitlyn metta troppa pressure e però se noi guardiamo il lato positivo abbiamo preso entrambe le summoner di Sona vuol dire che Sona in un potenziale gank bot lane non potrebbe avere niente oltre alla sua ultimate ok purtroppo non siamo riusciti a prendere anche quelle di di Caitlyn e questo è un pochino ok si ha preso scusate ha fatto il flash aggressivo alla fine quindi anche questo è molto buono ok perfetto allora già qua ci stiamo avvicinando al momento in cui vogliamo fare qualcosa di aggressivo in bot lane abbiamo preso il tp al top abbiamo preso il tp al jungler abbiamo tutte le summoner tranne la barriera della bot lane e quello che vogliamo fare se vi ricordate vi ho detto circa un minuto e mezzo prima dare visione attorno alla giungla bot è proprio prendere completo controllo del fiume qua se non sbaglio è dove voi tornate con le pinkward quindi avete già quattro pinkward per la zona inferiore della mappa più in teoria e questa è una cosa secondo me da cambiare l'item del jungler dovrebbe sempre essere quello delle ward in competitive ok anche su jungler aggressivi che magari vogliono smite blue smite rosso eccetera è meglio non so perché non l'ho fatto in sto caso allora ok va bene perché sì adesso c'è bisogno proprio di controllare bene la visione ok sì perfetto è proprio qua che avete tutti un sacco di pinkward ok quindi mi sei emozionato un po' sì 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 questo guarda da coach è proprio un sogno diventato realtà un sogno erotico esatto ok vi faccio vedere un attimo sulla mappa come andrebbero utilizzate queste pink allora se non sbaglio il jungler la prima cosa che fa è metterla qua scusate se non vi chiamo per nome ma ancora non vi conosco ok in teoria Orianna dovrebbe mettere la sua pinkward in questa posizione in modo da avere una bella zona d'ombra su cui iniziare a fare il rom ok addirittura la terza pink se potete la dovreste mettere qua ok e quando è che la mettete qua la mettete qua nel momento in cui Orianna e Jarvan si spostano assieme per venire a fare il gank così se per caso loro provano a romperla voi potete sfruttare quella cosa per per iniziare il fight mentre il team arriva esattamente e un'altra cosa importante mentre Orianna e Jarvan scendono dovreste comunicare per lasciare delle ward nella giungla ok quindi le ward diciamo più comuni sono questa qua sui raptor che fa vedere anche il passaggio eventuale del mid laner in questo caso Yorick una al red buff in modo da vedere se Malfitte passa così e la terza ward la vorreste utilizzare per il TP ok vuol dire che se non ci sono minion dip proprio come in questo caso dato che la bot lane avversaria sta pushando volete mettere una bella ward in una posizione molto molto aggressiva per permettere al vostro top di teleportare ok posso chiederti una cosa certo io ho visto comunque anche negli LCS invece che una ward potenziale se sanno per esempio che nel tribash è wardato il tribash esatto molte volte la ward la vanno a mettere o dal lato dei golem dove stanno i golem oppure fanno il giro dal rosso che è un po' più rischioso perché rischi di essere sputtato da eventualmente il jungler fa il giro da lì scende di sotto e la metti nel cespuglietto dietro la torre cioè non quello scusa l'altro quello proprio dietro la prima torre questo? no quello dietro quello a destra ah la prima scusa pensavo alla seconda ok allora come detto questo c'è bisogno più di visione di ip perché devi sapere devi essere consapevo del fatto che c'hai il tribush wardato prima di tutto e poi devi avere comunque consapevolezza che il jungler è dall'alto della mappa perché se no ti spottano mentre fai quel giro lungo e sì allora questa è una cosa che in questo game ad esempio non avevate l'informazione su dove era il jungler quindi mentre voi rommate volete già puntare a fare il fight ok il motivo per cui passare nel tribush non è un problema è perché nel momento in cui voi vi fate vedere rakan ingaggia saltate tutti quanti addosso parte il tp e non possono fare niente soprattutto in questo caso che non hanno le summoner e allora questa ward qua è ottima soprattutto per vedere quando il jungler è sui golem ok se noterai i jungler che i jungler o i support che mettono questa ward qua di solito la affiancano ad una ward di questo tipo ok questo è proprio per vedere su quale campo è il jungler non sono ward per party bot ma sono ward per sapere cosa sta farmando il jungler ok l'informazione esatto allo stesso modo in topside sarebbe una ward proprio direttamente sui lupi e una ward tra il gromp e il blue buff si si è il blue esatto e non sono proprio le stesse ward nella situazione che stiamo vedendo noi perché quello che vogliamo fare noi è proteggerci da un eventuale counter gang del jungler e non tanto dire oh mio dio c'è malfite andiamocene tutti ma più che altro sapere che sta arrivando e essere pronti a reagire ok perché comunque voi il vantaggio numerico ce l'avete siete quelli che hanno preparato la play avete il tp dove loro non ce l'hanno e anche se arriva malfite è una kill in più ok però dovete sapere che sta arrivando dovete sapere da dove arriva e in che momento ok così vi gestite molto meglio le vostre spell la vostra posizione eccetera ad esempio se uno è basso magari non pensa a malfite va avanti e muore da malfite se invece sa che sta arrivando sta un pochino indietro tanto sa che il team fa la kill comunque ok ok perfetto l'altro ward questa qua di solito si fa quando il party bot è un dive sulla torre esatto non è per proteggere la propria bot lane mentre viene pushata tutto il tempo ok anche perché quando c'è la ward lì puoi fare per esempio il giro attorno se vuoi andare direttamente alla torre per non prenderti dei danni gratis alla torre che ti fa perdere molto tempo esatto ok poi potete anche sfruttare la piantina per guadagnare spazio ok qualunque sia la direzione che volete fare usare la piantina in due vi fa risparmiare un paio di secondi di tempo per arrivare sulla bot lane ok allora immaginiamo adesso che non si abbia mid priority ok quindi il loro mid pusha molto di più magari si è fiddato magari ha ricevuto dei gank quindi avanti e è quello che pusha per primo in questo momento riuscire a fare questa cosa in bot è davvero difficile perché sarà lui il primo mid laner a muoversi e se pensiamo a magari una Katarina fiddata è davvero difficile fare qualcosa di aggressivo in bot lane se Katarina può arrivare subito ok quindi in questo caso avete due risposte possibili la prima è quella di chiamare il jungler ok farlo venire mid quando una wave sta per arrivare pushare assieme la wave sotto torre costringere Katarina a difendere la torre e in quel momento romare assieme quindi stesso discorso visione eccetera e andare a bot se questa cosa non è possibile perché non sapete dove è il loro jungler è possibile un eventuale counter gunk quindi state pushando in due arriva malfitte doppia ulti entra Katarina e poi non c'è bisogno che spieghi come finisce come finisce double kill e in questo caso voi volete abbandonare la torre top nel momento in cui riuscite a pushare una wave di più diciamo quindi magari l'orore callano voi pushate una wave di più sapete che molto probabilmente Katarina e Sona torneranno a bot a prendere la torre voi recallate andate top e svappiamo lane esatto tenete il top in top lane e in quel momento dovrà giocare molto aggressivo in modo da pushare la wave sotto torre chiamate il jungler ok che il mid laner non possa seguire va bene se avete buona visione al fiume o una ward in mezzo alla lane così quando Kat arriva voi potete reagire ok però se voi svappate nel momento giusto e vi portate dietro il jungler e avete il top laner già in top questa torre cade molto prima che cada questa perché loro non sono pronti a questa giocata e se non hanno visione corretta e non se l'aspettano nemmeno Katarina fidata può venire a stoppare la torre ok quindi la torre cade e quello che succede è che voi tradate la prima torre per una torre quindi già in vostro vantaggio perdete l'infernale però a questo punto non potreste comunque contestarlo rimanendo bot e prendete un Rift Herald in cambio ok quindi investite questo Rift Herald per prendere un altro attore preferibilmente la mid però può essere anche la bot o la seconda top come volete e cercate di avere un vantaggio di gold con una comp che scala benissimo nel late game vuol dire che a quel punto se nessuno fa errori troppo gravi dovreste essere in grado di vincere i team fight ho sentito ok dimmi sì ti voglio dire un'altra cosa perché ho eventualmente la mid altrimenti la seconda top io ho detto a loro già un paio di volte però vabbè non so come si è dato il messaggio che secondo me per esempio prendere la seconda torre in una linea prima del tipo minuto 20 è un po' inutile perché ti metti in una condizione in cui per arrivare a fare l'ultima torre devi spingerti così in avanti cioè devi abbandonare praticamente tutta quella linea poi perché ci troviamo sempre in una posizione quando a prendere la seconda torre prima del minuto 20 nel quale quella linea praticamente rimarrà abbandonata perché arrivare fino alla torre dell'inibitor ci mette molto cioè bisogna investire molte risorse ok ho capito a meno così la vedo io sì sì ho capito allora valutiamo però i vantaggi che ci guadagniamo allora innanzitutto ovviamente una torre in più sicuramente ottimo però questo è palese e aprendo completamente la top lane permettiamo a twitch di fare imboscate su tutta la lunghezza della top lane ok vuol dire che abbiamo aperto diciamo la mappa per la diciamo l'altro aspetto forte di twitch che è quello di arrivare invisibile dove qualcuno sta farmando salta fuori un jarvan salta fuori un twitch e la persona muore ok in più in questo momento non dobbiamo necessariamente applicare pressure su questa torre perché diciamo il nostro top laner non è uno di quelli che riesce a fare una cosa di questo tipo quindi mandiamo il nostro top in bot lane ok teniamo la bot lane nella mid e mandiamo rihanna a difendere in questa zona e può ruotare per prima mid ok perché quello che succede è che lei pusha la wave la manda deep nella nella lane top può rommare mid e mettere istantaneamente in pericolo la torre mid perché poi diventa il nostro sinistro contro uno esattamente e allo stesso modo dato che voi avete un twitch in questo caso potete tranquillamente mandare il twitch top e tenere mid orihanna che wave clear ok quindi ok si ci sono degli aspetti negativi nel senso che è difficile applicare pressure su questa torre però ci sono anche degli aspetti positivi che dobbiamo sfruttare dato che comunque abbiamo preso un vantaggio sul loro team sì vero ok in più di solito quando si punta due torri di fila in top è perché l'altro team si muove male sulla mappa e non ha modo di difendere qua esempio vediamo sia Caitlyn che Sona in questa posizione ok allora noi siamo in cinque top loro sono ancora bot che pushano la prima torre ci prendiamo rapidamente la seconda recaldiamo andiamo a difendere la nostra bot e ci abbiamo guadagnato nettamente diciamo ci abbiamo guadagnato due su esatto una torre di più ok preferibilmente mid lo dico perché aprire la mid è ancora meglio per Twitch per Jarvan eccetera anche Rakan che ha un engage molto molto lungo anche perché avremmo avuto quello spicchio tra mid e top che comunque anche per il fattore di Twitch per fare imboscate in un potenziale fight nella loro giungla anche potrebbe anche se non si fight in giungla anche se non si fight in giungla perché mi sfugge qualcosa non si fight in giungla se non si ha visione completa ah ok ok si ok queste sono le cose che vi ripetete appena qualcuno vuol fight io fight ovunque ragazzi per me si può fight ovunque però ve lo dico sempre in team non si può fight in una giungla ok in realtà quello che succede dato che voi non non preparate tutto questo è che giocate secondo le loro win condition vuol dire che voi state permettendo a loro di avere una lane in phase lunga dove che gli insona continuano a guadagnare vantaggi ok qua tentativo di gangbot ma questo gangbot non necessariamente funziona molto bene perché siete solamente tre ok voi volete portarvi dietro a tutti quanti non sapete dove malfite se malfite è qua dietro e magari ha raggiunto il livello 6 anche lui perché ha farmato un pochino meglio di come ha fatto questo 3v3 esatto lo perdete proprio senza possibilità di rispondere e maokai in questo momento non è in posizione di teleportare ok quindi se viene chiamato un tp dato che quello di sion è down anche se qua non si vede è ancora down per un paio di minuti maokai si allontana per teleportare sion lo segue a quel punto cosa fate tre morti bot torre che cade drago infernale andato e di nuovo siamo in una brutta situazione ok quindi cercate di comunicare magari un pochino meglio su quali sono le vostre prossime mosse e coordinarvi tra di voi su proprio come volete affrontare questo tipo di situazioni ok ok no questo è un aspetto che dobbiamo migliorare si perché comunichiamo proprio sinceramente si e poi se uno smette di parlare gli altri stanno zitti stiamo stalliamo praticamente non c'è nulla per x minuti ok allora questa è una cosa che si può sistemare se uno di voi prende iniziativa anche se non è quello che decide semplicemente chiede agli altri cosa si può fare ok anche se sta andando tutto storto e si muore a casa tutto il tempo eccetera ci deve essere una voce che se non è quella della coscienza individuale di ciascuno deve uscire dal gruppo ok quindi qualcuno che dice ragazzi ok cosa facciamo adesso e come facciamo a prendere il drago come facciamo a non lo so a difendere questa torre che sta cadendo e allora ciascuno dà le sue idee ad esempio il mid dice guarda non ho mana non posso romare fatemi andare in base appena torno pusho e vengo bot allora Jarvan dice ok va bene mi faccio trovare in bot side appena posso maokai dice va bene ragazzi quando lo fate pusherò la top e mi allontano così non mi interrompe il tp ciascuno poi aggiunge un anello ok però ci vuole qualcuno che inizi inizi l'avventura in genere lo faccio io è vero poi se tilto ma ok allora mai tiltare assolutamente mai tiltare abbiamo visto tutti cosa cosa possono fare gli SKT quando sono sotto di 10.000 gold non in finale questo purtroppo no abbiamo visto cosa fanno gli SSG esatto sono sotto per 30 minuti sì sì anche loro però imparate da loro ok niente tilt niente diciamo niente frasi negative niente oddio vabbè è persa anche questa finché il Nexus non cade dovete dare il 100% soprattutto se avete un vantaggio di late game ma anche se non ce l'avete comunque basta prendere una persona fuori posizione a 40 minuti e il game è vinto ok ne abbiamo vinta una di partita così quindi lo sappiamo ne siamo non sappiamo ok ok ricordatevelo quando ci saranno tempi bui e scusate qua torno un attimino indietro perché voglio mostrarvi questa cosa della botlane e ok vado un po' veloce perché ci importa solo l'aspetto macro della cosa ok loro qua vedono Jarvan di nuovo in botta e recallano ok o si nascondono non sappiamo cosa fanno quindi quello che dobbiamo fare noi in questo momento è pushare tutta questa wave anche se non la buttate sottotore perché si blocca in questa posizione voi comunque recallate e andate top ok questo è proprio il momento perfetto per andare top perché il vostro jungler sta per cambiare naturalmente lato della giungla dato che ha clearato tutto il bot side e adesso al top side up il vostro top appena recallato quindi adesso arriverà in lane e avrà la possibilità di pushare e se voi arrivate con twitching stealth rakan che può seguire un engage jarvan che è a livello 6 e maokai che ha il flash sul flash che manca dell'avversario perché ancora non è up lo so che il replay diciamo i cooldown vanno avanti mentre io pauso però il flash non è ancora up voi potete fare la kill senza che lui se l'aspetti e prendere la torre prima che loro la prendano ok quindi questa è la diciamo la risposta B se la risposta A non è riuscita a coordinarla ma anche se stavamo comunque a due livelli di svantaggio rispetto a Sion sì 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 allora il motivo per cui lo fate è che diciamo la botlane non sta andando come volevate ok è come se voi non lo so prenotate una bella vacanza e va tutto storto l'hotel fa schifo non si può mai andare in spiaggia esatto piove tutti i giorni allora a quel punto voi quello che potete dire è vabbè andiamo a fare la vacanza in top lane dove c'è il sole si fa festa tutte le sere ok quindi voi dite vabbè Catelynsona prendetevi pure la torre noi andiamo top ci prendiamo una kill ci prendiamo la torre prima di voi e dato che tra poco spawna l'herald e voi avrete controllo del top side vi potete anche fare l'herald ok quindi in questo momento voi fate questa cosa perché siete in svantaggio non la fareste mai se la bot lane stesse andando bene perché nessuno vuole andarsene in anticipo da una vacanza bella ok questa è la metafora più bella della mia vita ok e invece qua voi rimanete rimanete bot loro si stavano nascondendo siete un pochino greedy per pushare anche la prossima wave senza sapere dove sono e quindi loro riescono riescono a punirvi e da qua in poi le cose vanno vanno di male in peggio non so se vi ricordate com'è andato questo game eh poco però so che abbiamo perso male mi ricordo solo che tipo cioè quella canzoncina tipo la velocità la velocità la velocità l'anvidia qua ok e qua in realtà avete ancora la possibilità di fare party bot però è più difficile perché hanno doppi tp quindi dovete per forza fare l'engage molto bene non avete margine di errore quindi non sarebbe facile come quello di prima e ok ah questa è l'altra cosa che volevo ehm volevo commentare vediamo ok voi investite il vostro tp per un counter gun mid che in realtà non è un counter gun è proprio per difendere il mid laner cercare di punire il loro mid laner e a questo punto voi avete un vantaggio numerico in questa zona della mappa ma lo utilizzate secondo me male perché provate a pushare la mid che non cadrà mai invece di o andare tutti quanti bot o provare a forzare il dragon mentre loro sono divisi ok perché se loro sono separati quindi hanno due persone bot e tre persone che arrivano da sopra quindi una col tp e due che arrivano a piedi con anche con la visione che avete adesso che non è non è perfetta però è già molto buona voi avete la possibilità di separarli e quindi ingaggiare con molta violenza su uno dei due lati ok perché per eseguire una manovra di questo tipo dove loro attaccano da due lati contemporaneamente ci vuole molta coordinazione se voi in quel momento ingaggiate la prima delle due parti che viene un pelo avanti lanciando tutto quello che avete potete sicuramente vincere il fight che poi è la nostra win condition che è stata all'inizio cioè se ingaggiamo su qualcuno fuori posizione lo sterminiamo esatto esatto e qua potete forzare questa cosa voi gli dite guardate che o venite qua ma siete separati abbiamo un hard engage oppure ci lasciate un drago gratuito e questo drago è molto importante dato che la partita si spera dura dura parecchio ok quindi tutti i fight mid game late game eccetera voi avete un vantaggio su di loro e per farlo quello che dovete no ma che in realtà a questo punto dovete sempre chiedervi a cosa è servito il tp certo ha salvato la vita del mid laner va bene però potete prendere di più avete fatto la cosa giusta pushando la wave mid vuol dire che adesso yorick deve per forza rimanere mid a pulirla o se viene verso direttamente verso il drago perde un sacco di farma e voi potete prendere controllo del fiume vi fate il granchietto iniziate il drago mettete altre ward se ne avete ancora nell'inventario pink ward eccetera e la bot lane dato che in questo momento non è neanche tanto sotto pressure può sacrificare una wave per prendere un drago infernale quindi è una una scelta più da late game perdere un pochino di gold adesso per essere molto più forti dopo e invece voi qua provate un dive ma non sapete dov'è il loro jungler e non avete considerato la possibilità di un tp da parte di sion che è esattamente quello che loro non hanno considerato 30 secondi fa un tp da parte di maokai quindi questo secondo me è molto rischioso e qua anche senza tp di sion loro riescono comunque a non tanto a girarla perché comunque un uno per uno è abbastanza equo come trade ma a impedervi di prendere un obiettivo ok e in tutto questo sion esatto e sì diciamo che mancava anche un pochino la valutazione di quanto danno potevate fare alla torre e trombo è un cappuccino ok e qua sì ah in realtà mi sa che è questa la kill che volevo farvi rivedere questa ragazza merita una medaglia al valore mi pare sia questa non vorrei sbagliare ci ho provato no ma mi sto mettendo pure io davanti l'avevo detto fai morire a me che mori tu e poi mi ha detto è uguale avete l'unico team dove l'ADKR è disposto a dare la propria vita per salvare il super gli solito gli ADKR sono tipo no vabbè muori te stiamo scherzando forse pensavo di salvare invece in realtà di sicuro avevi più vita quindi se uno dei due poteva prendere il colpo verete ok e qua diciamo arrivati a questo punto dato che loro vi hanno preso la torre vi trovate nella situazione dove dal punto di vista sempre strategico il fiume appartiene a loro ok voi avete controllo attorno alla mid ma tutta la parte sotto appartiene a loro quindi il drago adesso è nel loro territorio se voi lo volete contestare dovete avere ottima visione non essere visti mentre vi avvicinate quindi trinket rossi e pinkhorn nella vostra giungla ce n'è un inizio abbastanza buono però tutta questa zona qua potrebbe tranquillamente essere guardata quindi loro vi vedono arrivare e c'è bisogno di buona coordinazione con l'engage in più non avete il tipi del top quindi è più facile per loro forzare un 5v4 rispetto a quanto sia per voi perché in questo momento se Sion decide di andare dietro la torre a lanciare il tipi è davvero difficile per Maokai stopparlo e quindi qua si dovete abbandonare il drago e questa è un'altra cosa che non non volevamo nella vacanza da sogno ok si qua addirittura quello che potete fare è invece di continuare a stare attorno a questa zona è lasciare il povero Twitch in questa zona da solo e andare tutti quanti top a far Villaral mentre loro sono impegnati a fare il drago così almeno tradate con loro se siete l'avevamo anche detto su TSS ok e poi perché non è successo è perché ci siamo ricordati tardi è un po' svizzero il middle laner quindi ok no questa è una cosa che potete potete tranquillamente fare anzi dovrebbe venire quasi in automatico esatto se non potete fare qualcosa per un obiettivo che stanno prendendo e non hanno ucciso gente del vostro team potete tranquillamente rispondere con un obiettivo nell'altro lato della mappa ok così se voi andate avanti in questo modo continuate a tradare obiettivi continuate a tradare gold con loro e il gap che c'è tra di voi diventa sempre più piccolo a livello percentuale ok rimangono comunque 3000 ma 3000 su 20k è un conto 3000 su 40k è un conto ok è un altro conto dovrei dire io sono emigrato quindi non lo so manco più l'italiano ok e qua le cose si fanno si fanno abbastanza difficili avete comunque il vantaggio di avere una buona comp ok e allora adesso se guardiamo la minimappa dal punto di vista sempre di strategia di movimenti eccetera vediamo che bot il drago non c'è più questa torre non c'è più questa torre è abbastanza difficile da prendere perché come abbiamo detto entreremmo nella zona di fiume che appartiene a loro ok questa zona appartiene a loro questa zona qua adesso è neutrale vuol dire che può essere contestata e chi ha un controllo migliore della visione lo diciamo lo controlla e questa zona qua più o meno è la vostra ok quindi andare a prendere questa torre è davvero difficile quello che c'è app è torre a mid per entrambi i team ma la vostra è a metà vita torre a top per entrambi i team entrambi a full vita e rift aral vuol dire che in questo momento quello che succederà diciamo le prossime cose che succederanno saranno in questa zona qui ok che siano pick che voi volete fare per cercare di tornare in partita che siano pick che loro cercano di fare per snobollare prendere altri obiettivi una semplice zona che il link push a bot viene mid a pushare loro che forzano l'eral può essere qualsiasi cosa quindi al momento tutta la visione dovrebbe essere spostata in questa zona qua ok quindi fiume sopra e eventuali entrate uscite della giungla le pink ward in maniera più difensiva e le ward normali invece in maniera più offensiva ok e questo se voi giocate 100 game contro 100 team diversi in questa situazione 99% cioè 99 fight scoppieranno in questa zona qui ok e vediamo mal fight che prova a gankare top ok non l'abbiamo vista abbiamo visto tardi con la ward perché non controllavamo bene il fiume ok adesso sono che viene mid caitlin che viene mid queste cose le potete vedere anche senza prevedere il futuro ok sono proprio reazioni normali avete twitch che frizzabot ok va bene allora loro si sposteranno e proveranno a prendere qualcosa in cambio e siccome il drago non c'è vanno mid esatto vanno mid vanno verso l'herald e provano a prendere altri obiettivi sempre per continuare a snowballare ok qua è un buon tentativo di provare a stoppare il il siege in mid lane però è molto rischioso anche se in realtà sembrava una cosa molto pulita ok ci prendiamo il flash di sona così non ce l'ha più è rischioso perché non vedete il resto del team il vostro twitch è visibile bot ok e loro sanno che se forzano qualcosa torna la mid anche se muore sona comunque vincono il fight ok e queste sono cose diciamo dovete trovare finestre per tornare in partita ma per farlo non dovete mai prendere rischi perché ogni rischio che prendete permette al loro team di snowballare ancora più rapidamente e non farvi mai arrivare al late game ok lo so che guardo sempre il jungler ma per adesso è ancora quello dove diciamo ok no cambiamo un pochino allora in questo momento rihanna sta pushando mid ma non avete la visione corretta per pushare ok pushare una torre si può fare solamente se o si sanno dove sono gli avversari o si ha visione attorno alla lena che si sta pushando ok però qua c'è questa pink che però non copre nessuna strada di questo tipo e ne una strada nemmeno una strada di questo tipo ok quindi non state o non state mettendo visione corretta per quello che sta facendo rihanna o rihanna non sta facendo la cosa giusta in base alla visione che ha ok qualcosa di sicuro è andato storto prima o poi e quindi è molto facile per loro punire questa cosa o provarci e come abbiamo detto di nuovo si finisce sempre più o meno in questa zona ok perché è la zona dove voi avete un minimo di visione dove avete un minimo di controllo quindi orihanna se viene gankata preferisce andare verso il suo top laner che è equo piuttosto che verso la bot dove trova sicuramente morte sicura e il vostro controllo della zona non è abbastanza buono da potervi permettere di vincere un fight ok allora direttore stavano iniziando il rift herald e e questa è una cosa che non avreste visto se orihanna non fosse morta ok poi qua fight nella giungla quando siete uno in meno in realtà caitlin non c'è però siete tutti troppo indietro e troppo bassi per potervi permettere un fight di questo tipo e in tutto questo la cosa importante anche senza guardare a livello meccanico cosa è successo eccetera è questo ok è caitlin che ha tempo libero sulla torre mid e questa è la cosa diciamo questa è la loro win condition loro hanno preso caitlin con un support difensivo che comunque ha tanto poc durante la lena per fare esattamente questo prendere una torre poi prendere un'altra torre poi andare a prenderne un'altra poi diciamo iniziare a controllare questa zona assiggiare le altre torri eccetera e voi gli state permettendo di fare questo perché decidete di andare a fare un fight nonostante il vostro millenar sia morto e avete una torre che viene pusciata invece dovreste sempre cercare di difendere le vostre torri dato che siete indietro volete cercare di rallentare il sanguinamento diciamo puoi tornare un secondo indietro qua perché io qua mi ricordo che mi ho ucciso che aveva la visione dentro ok la ward e sì è messa quando ho messo l'ho acceso c'ho l'arrican però ma vedi lì ma vedi lì l'ho messa nel momento in cui stavi per saltare unlucky c'è avuto pure i riflessi di Christa a flashare ma ho complimenti o le altre sì ti voglio bene Fede no io no mi hai fatto del pando e poi qua la partita non è proprio finita però allora no in realtà non è finita non è finita perché questa partita va avanti davvero di tanto siamo a 19 minuti loro come team comp vorrebbero vincere nei prossimi 10 minuti invece siamo appena a metà del replay quindi diciamo l'opportunità di vincere questo game ce l'avevate per la vostra team comp poi ci sono stati anche problemi di team fight eccetera e sono altre cose che dobbiamo vedere e le vediamo rapidamente che in realtà abbiamo quasi finito il tempo ok salto tutto quello che non è 100% urgente ok qua Rift Derald occhio al timer mi raccomando lo sapevamo abbiamo provato a lasciare ma ok qua non possiamo fare il baron ok allora qua avete provato a fare il baron però questo è un errore che avete continuato a fare durante tutta la partita e suppongo che sia uno dei problemi che avete nelle partite di solito ovvero non riuscire a rispondere nel modo corretto alla pressure che l'altro team genera sulla mappa mi spiego meglio se loro hanno due persone che pushano bot e voi iniziate a fare il baron senza essere sicuri di poterlo concludere quello che succede è che tradate un paio di altri kill di kamikaze del loro team che dicono ok glielo stoppo ma muoio per una torre bot ok se questa cosa va avanti perdete un'altra torre bot ok è una cosa che non potete permettervi di fare di sicuro twitch da sola non riuscirà a difendere l'inibito ok e infatti quello che devono fare loro in questo momento è mettetevi un attimo nei loro panni guardate cambiamo anche la visione è ok sion è appena morto e resta in venti con il tp noi abbiamo due persone bot che pushano e loro stanno facendo il baron cos'è la cosa importante è solamente stoppare il baron non importa quante volte dobbiate morire anche se morite a rotazione uno alla volta sono a caitlin vanno dritte per dritte e prendono il nexus ok ovviamente questo sarebbe paradossale però per farvi capire come questo ragionamento sia sbagliato da parte vostra ok qua forzate il baron ma non siete nella condizione di poterlo fare innanzitutto è molto presto in più avete pochi danni non abbiamo danni esatto l'unico che potrebbe fare danni è twitch e è dall'altra parte della mappa in più non ha ancora la build che gli permette di fare danno quindi qua malfit entra ma lui non gliene frega niente di fare kill ok è qua solamente per stoppare il baron quindi stoppa il baron e avete perso una torre e questa è una cosa che avete rifatto in più occasioni vabbè qua è clown fiesta proprio ok questo salta un pochino tutto finché non ci sono fight un pelo più interessante almeno non ci fa sanguinamento ok allora questo era il primo fight che volevo vedere e allora voi arrivati a questo punto probabilmente il morale era abbastanza basso ma non è assolutamente necessario perché avete una comp che è molto migliore della loro ok chi è che gioca Yorick mid e Malphite jungle ditemelo no scherzo a parte quello che volete fare no allora guarda che già se sistemate tutto quello che abbiamo visto in quest'ora di lezione un team così ve lo mangiate ok perché hanno un'unica win condition e voi la shutdownate subito e si trovano con un jungler che non è un jungler un mid laner che probabilmente ha miscliccato quando ha piccato ok e una kill in zona che non sono riuscita a snowballare quindi non possono vincere il game ok anche se si impegnano ci provano non possono farlo però allora primo dovete sistemare la parte iniziale del game seconda cosa che dovete sistemare sono i team fight e questo è un team fight un po' caotico che però fa capire molto su cosa dovete lavorare poi ne ho anche altri diciamo altri esempi in questo game da da vedere ok allora Jarvan entra killin era già bassa di vita Sona non aveva mana ok Sona tira due tasti ha finito il mana per tutto il fight quindi da lì in poi è un un minion di quelli caster esatto e il resto del team non ha tantissimi danni giusto? perché sono comunque tre tank sì Yorick ha una Trinity però Yorick difficilmente è un problema in team fight ok allora qua Jarvan entra poi si allontana entra Rakana fa un ottimo charm con con W su Caitlyn e non c'è follow up ok Maokai non aveva i tasti disponibili Jarvan si è allontanato non abbiamo qua mi ricordo non abbiamo comunicato cioè io sono entrato nessuno ha detto niente nessuno ha risposto me ne sono andato e poi lui ha seguito dopo senza c'è ok allora qua già penso che abbiate capito cosa sto per dirmi ok non c'è bisogno di una laurea per capire cosa state sbagliando però se non ve lo faccio notare probabilmente i prossimi team fight te li farete allo stesso modo uno vede una buona occasione entra poi dice ah cavolo sono da solo torna indietro l'altro dice ah era un bel engage e entra ok il vantaggio che avete in team rispetto alla solo queue è che potete parlare tra di voi e va bene dire un sacco di cazzate durante tutto il game sicuramente però in questi momenti bisogna parlare del game ok bisogna dire ragazzi sto per ingaggiare seguitemi vado su Caitlyn non so potete chiamarmi quello che volete vado di ultimate parto con il flash eccetera ok perché questo fight poteva essere tranquillamente un un fight pulito pulito per voi dove già recuperavate un buon vantaggio ok già solamente i gold degli shutdown più tutte tutto il farm che potete fare tutta la vostra giungla da farmare che questa giungla so che l'ho definita vostra ma al momento è loro quindi se voi riuscite a farmarvi tutti questi campi esatto potreste riasciare il baron o baitare attorno al baron è una cosa un pochino più rischiosa che potete fare se riuscite a fare tante kill ok se non riuscite a fare tante kill comunque avete tanti vantaggi che accumulate solamente facendo cose standard ok quindi farmare prendere il red mettere visione sono cose anche banali che però non potete fare finché Caitlyn vi puscia le torri ok e qua comunque c'è una buona ulti di Orianna però è tutto un pochino diciamo scollegato non sembra un team ma sembra un pochino un engage da solo kill ok in più c'è Sion che dice ah ok siete tutti quanti top a uccidere il mio team va bene io pusho mid ok e questo è quello che abbiamo visto anche prima quello che possono fare i team per rispondere a una cosa che va male nell'altra lane ok questo qua è il Sion che è stato invitato alla vacanza da schifo e ha detto no no guardate che io qua mi diverto da solo ok quindi voi qua forzate il Baron e di nuovo non state calcolando bene cosa può succedere facendo questo Baron ok perché non riuscite a chiuderlo ok di nuovo Malfite fa la cosa che ha fatto prima esatto si suicida dice ah vabbè ma se mi date anche un paio di kill sono contento intanto Sion split push ciao ok poi gli altri sono anche responati esatto e quindi un team fight che è andato bene ok anche se non era pulito comunque è andato bene non l'avete sfruttato nel modo giusto trasformato esatto esatto è finita piuttosto male finita piuttosto male scherzo è più abbiamo girato la frittata sì ok allora da qua in poi ci sono tipo dieci minuti di fight avanti e indietro su e giù eccetera e volevo saltare direttamente all'ultimo se per voi va bene sì ok allora qua siete appena riusciti a resistere a tre inhibitor giù non avete nemmeno una torre del Nexus però avete raggiunto il late game ok quindi questa è la la cosa diciamo la cosa importante non importa come ci si arriva ma ci siete arrivati poteva essere fatto meglio sì ha qualche importanza adesso no perché quello che conta adesso è un team fight dove avete 2000 gold di deficit rispetto a loro ok sono quei famosi 3000 che c'erano all'inizio della partita poi sono diventati di più poi sono tornati ad essere di meno e adesso quello che conta è semplicemente la posizione l'engage e il danno che fate le ultimate che fate gli oggetti che avete e a questo punto siete in un'ottima ottima posizione ok avete una team comp di sicuro superiore come abbiamo detto la loro front line si è dancosa ma non fa danni e Caitlyn è l'unico pericolo di questo team ok quindi in questo momento se fate un buon engage potete chiudere perché i rest timer saranno di almeno 55-60 secondi e se tirate tutti e quanti dritti mid con tank che possono tankare torri e avete un minion che vi scorta per togliere il bonus alla torre quindi non fate morire quel minion tankate voi la torre e vi tenete il minion in vita potete tranquillamente fare torre torre inibitora due torri e chiudere ok quindi importantissimo il prossimo fight tutto quello che è successo finora quindi tutto il flame il fai schifo il perché non ganchi eccetera non importa quello che conta è fare un buon fight ok e adesso vediamo il fight decisivo il buon fight ma no non è di che schifo sono puttana il buon fight il buon fight i taipei assassin avevano il loro support che faceva tutte le colla anche aggressive anche in fight ok quindi era lui che diceva al top vai fai flash engage su questo tizio e il top lo faceva ok ogni team può gestirsi come vuole però se nessuno parla la cosa non può funzionare quindi questa era l'engage Catelyn ha dovuto immediatamente bruciare il flash però nessuno ha punito questa cosa ok avete tutti quanti il flash a questo punto vuol dire che chiunque poteva punire il flash utilizzato da Catelyn chiunque poteva andarla addosso ucciderla e a quel punto Twitch è in in posizione da fare danno a chi vuole perché non c'è più un pericolo nella loro backline vuol dire che tutta la vostra frontline deve solamente fare peeling per Twitch perché sapete che Twitch uccide tutto quanto ok una volta che Catelyn è morta la situazione non è uguale se Catelyn è ancora viva perché lentamente Catelyn ucciderà la frontline e poi potrà uccidere anche Orianna e Twitch ok quindi qua avevate davvero un'occasione d'oro ma non avete comunicato e quindi l'engage è scoordinato adesso c'è un re-engage però Jarvan è già morto vuol dire che anche con una buona ulti di Orianna in combo con Rakanna vi manca la frontline e Catelyn non è morta quindi adesso noi possiamo scommettere su come finirà questo fight e di sicuro scommettiamo sul fatto che Catelyn uccida tutti quanti ok anche se di sicuro non riesce a prendere le kill perché gliele stilano sempre poverina però l'idea di base è che Catelyn fa tutti i danni ok e e qua diciamo è finita così ok perché a questo punto due morti con l'inibitore aperto si è morto Malfite però è troppo poco ve l'ho detto che Sona stilava le kill madonna Sona ok avete capito cosa avreste dovuto fare meglio in questo fight ok io direi che più che altro dobbiamo capire cosa dovevo fare all'inizio della partita perché non dobbiamo arrivare al fight decisivo sì sì però il fight decisivo è comunque il momento in cui mettete in atto la vostra team comp ok è il momento in cui prendete il tank che ha passato 40 minuti a farmare top e non ha mai visto un altro campione che non sia Sion ok mettete assieme Jarvan che ok è forte in early però il suo punto di forza principale è il team fight stessa cosa Twitch Twitch poverina è stata brutalmente abusata per tutta la partita fino a questo punto adesso è il momento in cui vuole fare danni quindi voi dovete riuscire a coordinarvi e mettere assieme tutti questi champion che non erano fortissimi prima ma che se giocati bene assieme diventano molto forti ok la vostra comp è quella che rende forti ogni singolo vostro campione per farlo però dovete essere anche coordinati ok siete d'accordo con questa cosa? ce la fate a comunicare per i prossimi team fight? ci proviamo ci proviamo ok potete anche prima di joinare una partita vi mettete vi prendete dieci minuti e decidete il compito di ciascuno di voi in fight ok quindi se una persona vuole chiamare l'engage perché magari ha il campione che ingaggia dovete dire ok il tuo compito è questo il compito di non lo so quello che ha il follow up engage è dirgli dargli conferma e dire ok posso seguirti allora già quello è un ottimo engage il compito magari dei damage dealers è confermare che anche per loro l'engage va bene perché se qualcuno sta andando in base a comprare o è completamente zonato da un assassin che c'è in mezzo deve riuscire a dire no 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 non andate se no questo fight è perso ok cercate di trovare voi un vostro sistema per comunicare meglio cosa dovete fare all'interno dei teamfighter perché questo fight era tranquillamente vinto se vi foste presi un paio di secondi per coordinarvi bene sulla prossima mossa perché stava trombi avanti poi c'era il gruppetto metterla e donatela all'interno io ero addirittura top sì diciamo che sono tutte cose che vanno bene prese individualmente ma prese come team diciamo che manca proprio quello step di comunicare tra di voi perché quando si ingaggia tutti quanti lasciano perdere quello che stanno facendo e vanno per il fight esatto se non è il momento giusto per uno di voi tipo i super minion stanno distruggendo l'inibitor top il top dice no 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 fermi devo pulire top poi possiamo andare ok sì ok perfetto ragazzi e avete domande rapide qualcosa su tutto quello che abbiamo detto visto no beh io ho stato tutto chiaro perfetto ok vorrei dire il nostro shot call è comunque donatello il top lane diciamo quello che comunque ci guida ok va bene ci passiamo su ciò che ci dice ok perfetto allora quello che può fare lui è magari dare il segnale a Rakhan o Jarvan se devono ingaggiare loro per primi o prendere un champion che ingaggia per primo ma Okai non sempre lo può fare di solito lo fa solamente quando ha il flash è solo follow engager esatto fa molta fatica ad essere il leader dell'engager però comunque può solamente tramite comunicazione discutere con gli altri e dire ok vai 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 ti posso seguire ok questo è quello che dovete fare poi ovviamente ci sono anche tutti i dettagli minori tipo Orianna deve sapere su chi mettere la palla e può farlo ascoltando la discussione tra gli altri quindi se capisce che Jarvan è il primo che ingaggia Orianna mette la palla su Jarvan ok non c'è nemmeno bisogno di dire vai mettimi la palla chi la metto eccetera sono cose che poi ovviamente se voi giocate questa comp spesso diventerà quasi automatica e allo stesso modo Twitch ha bisogno di chiamare eventuale peeling ok se ha un avversario particolarmente fastidioso addosso perché se voi tenete in vita Twitch Twitch uccide tutti una volta che Kaylin è morta ovviamente ok va bene va bene ok ragazzi grazie mille anche per grazie mille grazie vabbè figuratevi fatemi sapere come vi trovate se riuscite a mettere in atto quello che abbiamo visto un pochino oggi non saranno cose semplici magari la parte del teamfight un pochino di più invece il gank bot eccetera richiederà parecchi tentativi failati male prima di arrivare alla diciamo qualcosa di concreto ok l'importante è da sapere comunque come più o meno va effettuato e come bisogna diciamo che ogni volta che va male chiedetevi cosa è andato storto perché di sicuro diciamo l'idea era giusta ma l'avete eseguito male o non avete valutato qualche fattore quindi ogni volta che va male vi chiedete cosa è andato storto e cercate di sistemare voi quando è che vi allenate la prossima volta ora vorremmo fare un game almeno io so zuccare con feste io ci so ok va bene allora fate una cosa voi fate la partita alla fine della partita giocate questa comp se riuscite o comunque una molto simile a fine partita mi scrivete un bel messaggio con tutte le cose che sono andate bene e tutte le cose che sono andate male ok 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 perfetto allora vi lascio giocare ragazzi grazie mille grazie mille grazie mille